io torno al bunker vai vai postalo a dopo ce l'ho fatta vaffanculo più di quando ho postato spike che cantava frozen nella doccia ti ringrazio ciao allora era Ken che hai detto Travis dai vuoi farmi credere che non ne sai niente in che altro modo vuoi che te lo dica io non capisco qualcuno saprà qualcosa è stato assurdo invochiamo l'incrocio e questi tizi che arrivano sparati sulle loro sleeper no e con la polizia subito dietro capito ah io su questo la penso come Travis non siete mai tentati di scappare solo per vedere se ci riuscite veramente no ombre bisogna pur cominciare da qualche parte no bisogna uno o due posti dagli un'occhiata forse riusciamo a usarli forse no ok a dopo a dopo ok c'è solo un modo di scoprire se questa location è adatta falla bruciare subito all'inizi a un'occhiata Grazie a tutti.